Il titolo stesso della delibera determina nella eccezionalità e temporaneità del provvedimento la situazione, ma questo è un provvedimento tampone che non risolve i gravissimi problemi della medicina generale e della popolazione in generale del Veneto. Il sindacato dei medici di medicina generale di Venezia non digerisce la proposta della giunta regionale del Veneto varata su proposta dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin in materia di assistenza primaria e di continuità assistenziale. Disposizioni temporanee ed eccezionali in tempi di Covid, coperte con 52 milioni di euro per sopperire all'attuale carenza di medici nel territorio regionale, portando su base volontaria l'aumento da 1.500 a 1.800 assistiti per ogni medico di medicina generale in attività e fornendo loro un'indenità annua per avere il collaboratore di studio con 2 euro per assistito in carico. Misura e tampone insufficiente per Scassola, nei prossimi dieci anni entreremo in area rossa per mancanza di medici. Questi aiuti sono un sistema tampone che va a rincorrere le continue falle del sistema regionale e nazionale e questo è preoccupante, noi non possiamo più rincorrere le vicende, noi dobbiamo progettare un nuovo futuro da subito perché abbiamo già i modelli, abbiamo già discusso con la regione da tempo, i modelli ci sono, è una decisione politica. che va fatta e bisogna avere il coraggio di prendere queste decisioni. L'obiettivo per incrementare il numero dei medici di base è evidente per il sindacato. Rendere più appetibile la professione del medico di medicina generale, oggi non è più appetibile, lo vedete tutti nell'accesso agli ambulatori, i medici sono oberati di lavoro, fanno fatica a programmare anche la normale routine clinica, sono così compressi dai tamponi, dalle procedure di contumacia, abbiamo bisogno di liberare i medici da questo e di tornare alla clinica.